eccomi bella a tutti ragazzi sono airsilent e questa è la mia prima partita su battlefield 1 in realtà è la seconda partita ma la prima era solo di prova che bella questa mappa ora che erba profumata allora devi sparare non devi fumare l'erba no no smesso di fumarla stavo solamente contemplando non so neanche dove sei ancora devo spunare spunerò su c se possibile così vado a mettermi sui terrazzini sui tetti col fucile a cecchino sparo da lì roba scuola troppo vicino a me allora il fuoco il saluto fa in teoria bisognerebbe difendere le bandiere in pratica ammassa più gente che vuoi sono visto non so come ha fatto più nabbo di me c'erano solo miei amici qua mi sono ritrovato in mezzo a tre negri sei negri vabbè sette vabbè tutta la squadra allora dove sponiamo dove sei? io sono sempre qui in C sul terrazzino se vuoi prenditi un fucile a cecchino che da qua si vede abbastanza bene e l'ho preso non vedo te però dobbiamo solo trovare nemici in C se tu clicchi sul mio nome diciamo puoi spawnare su di me o sul mio tondino cazzo cazzo i colpi che devi ricaricare ogni volta e vabbè dai dai che sto ricaricando andiamo a comprare un nuovo fucile quanto prima che costano un po' non è mi sono saliti da dietro non li ho sentiti allora dovresti riuscire tipo a stare vicino a me o a altri player e così se nel caso gli altri muoiono tu gli rubi l'arma fondamentalmente gliela raccogli e poi andare avanti non posso spawnare su nessuno non so ora si no no ah 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 tuo nome dove è il tuo nome non mi fa spawnare su di te eh perchè ho la gente che mi spara tutta nervosa non so vai l'ho preso stiamo perdendo l'obiettivo vieni su di me adesso dovresti essere in grado di spawnare non batto di nemici qua sotto cazzo cazzo come mi ha fatto è un tumore quello eh ma qua è una guerra tra ciechi in questa mappa si ma perchè questa è una mappa tutta quasi tutta campo aperto insomma difficile che è successo? perchè non mi hanno arrestato ma non ah non hai l'arma in mano? si eh devi switchare 1,2,1,9 tante volte ok sto giocando veramente di merda però adesso è ora di scegliere e fare vabbè 4,2 non è così male certo in fronte al nostro primo che fa 18,0 facciamo ridere noi però ma qua all'aliteria puoi fare anche 0,20 l'importante è che conquisti i bandieri sponiamo su Ersa bravo Ersa che sta difendendo qua Ersa che sta difendendo qua ah liscio eh giocare d'anticipo col cecco è difficilissimo oh ma perchè mi arrivano le granate addosso dal cielo eh perchè ci sono quelli col mortaio che tipo se sei spoltato sulla mappa tutti cercano di sparare e poi perchè è pieno di ufo al lanciarlo oh cazzo no vabbò occhio al carro abbiamo perso l'obiettivo echo in teoria noi abbiamo premendo 4 i carri anti proiettile però fanno veramente pochissimo danno mi sa che non li ho caricati sai ma forse non li ho sbloccati può essere c'è comunque là quello che ci monta col contro ne ho ucciso uno quei carri anti proiettile carro pesante danneggiato sei eh arrivano sono bombe anti gas qua dietro con l'anti gas non puoi mirare eh no e che faccio guarda la pistoletta eh si che la pistoletta la usi anche in non scope diciamo ma quello è un uomo che cazzo è stiamo perdendo l'endettivo bravo stiamo perdendo l'endettivo bravo stiamo perdendo l'endettivo bravo la gente no no mi sto sto prendendo fuoco no no attento dove metti i piedi qua cazzo guarda se riesco abbiamo perso l'obiettivo bravo ma vieni qua che c'è la roba da rubare per terra vieni a rubare c'è un fucile qua per terra bello vieni qua e tini premuto R ma è da scout questo è uno dei fucili migliori che puoi trovare anche questo però un colpo ai ricarichi oh l'ho ittato vedi quello dovresti sdraiarti e mirare però non è possibile ucciso pensavo che mi copresti le palle eh ci ho provato ma io c'ho la pistoletta non ho un'arma seria quando prendi fuoco ti devi sdraiare e stare fermo è una cosa oh dimmi che c'ho ancora questo fucile si grande ma questo non ho capito se è automatico no 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 non è automatico ma guarda che quello non muore ah ecco ok adesso vedi occhio cazzo perché continuano a mettere le bombe qua per evitare che cioè quando sale sulla scala la gente piglia fuoco ed è una cosa buona il problema è che pigliamo fuoco anche noi se gli stiamo vicini c'è uno che sta per salire dall'altro lato l'obiettivo è continuano a lanciare le granate qua su aia nooo non mi... ah certo che mi si mette davanti al cazzo nooo che gran rosicata meno male che mine suscitano sempre eh in teoria dopo la... dopo una volta che t'hanno restato non possono più restarti in teoria hai tra virgolette finito la vita bonus in pratica su alcune mappe ti restano all'infinito senza problemi cazzo cazzo ma muoio di nuovo c'era un aereo che è esplosso ne so oh c'è un car armato che continua a spararmi come i pazzi cazzo 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 bravi che me li uccidete tutti cazzo 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 o faq ma e pensavo che era morto questo invece cazzo trovi che stiamo perdendo la partita non stiamo parlando abbastanza bandiere r legenda forse cazzo Io vado a sudd, si, io ho preso il medico Uno l'ho ucciso in delta, però ci sono i suoi amici Tutti uccisi Bravo Erso C'è tanto gli FPS paurosamente Sponiamo su A Ha spawnato dentro un carro Come si esce dal carro? Con la E O morendo Ah, però non esci, non si muori Allora, proviamo ad andare in digla, stanno conquistando Buonissimo Beh, mi ha ripetito i granati e... Ehm, non lo so Cazzo Ma dov'è? Ma che cazzo? Ne arriva uno di fronte a te Abbiamo conquistato l'obiettivo delta Ma quello è un tronco spezzato, vaffan Abbiamo perso l'obiettivo bravo Non era poi così bravo se l'abbiamo perso Non era poi così bravo se l'abbiamo perso Ne è perso perché fai queste battute Guarda Ehm, mille Uccideremo questa artiglieria Oddio Non serve a niente questo cannone qua Non so che cannone stai usando Cannone del cazzo No ma nessuno riesce a distruggere quel pelitato Stalla da inizio di partita E adesso sta entrando uno dei nostri carri Spero che ce la faccia lui Noi con le granate non gli facciamo niente Gli facciamo pochissimo, li facciamo Se tu c'hai le granate anti-carro Allora si che gli fai male Mi sa che non sa tanto guidare lui L'ha distrutto comunque Eh no, il nostro no Era ora Ho bisogno di una mano Eh, sono morto Mi sono arrivati da tutti la Guarda, 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 guarda Guarda, guarda, guarda 21-5 sto facendo Eeeh, tosset No, adesso dobbiamo andare qua Ecco C'è Hai un distacco di una cinquantina di punti Però si può fare molto meglio Aia, aia, no Ho provato, c'è Due caricatori adduso Dei mirare in testa Sembra banale Prova qua davvero Se miri in testa uccidi con Uno o due colpi Provo a risponare su di te come medico Cosa è che mi pievo? Dov'è? Cazzo Ho fatto McGyver senza accendino Dov'era? Eh, dietro le scale All'altro lato Su in due Non respawnare, eh? Ok Vai Uno down Qua Cazzo Sanna su di me Eh, ma da dove? Ah, da dietro Stanno andando verso E Ah, non è stato quello Quelli che Da E tornano indietro verso D E ci mangiano Siamo Chiusi su due lati Abbiamo perso l'obiettivo alfa Un'opera Cazzo Cerca di raggiungerti Non morire C'è un nostro dirigibile in arrivo Ecco, abbiamo il dirigibile perché stiamo perdendo troppo Dai, Erso, che ne hai uno davanti Bravo, Erso Beh, bravo il cazzo Beh, se non altro l'hai ucciso. Nooo, chi è che mi ha ucciso? Un granatiero. Non abbiamo gente che cura, non abbiamo. Io vado da solo sull'obiettivo cielo. Ma nooo. Non è stato l'obiettivo, Alfa. Dov'è la bandiera di Shaykrix? Ci sei quasi. Ce l'ho sotto? Sì, ci sei sopra adesso. Eccola! Oh, mamma mia. Adesso arrivano da ogni là, Alfa, stai pronto? Cazzo. Qua adesso è il punto più difficile da difendere. Si scatena il caos qua. Dove sono? Oh, ce l'ho qua sotto. Non muore! Non muore! Mamma mia. Bruciato, da chi? Boh, mi ha sparato 30 colpi di pistola addosso e non è morto, questo si gira. Un colpo mi ha coltello. Niente, sta sempre questo camperato là dietro. Abbiamo perso l'obiettivo, Alfa. Camperato dove? Eh, dove ce le sono le scalette, il rialzino. A sinistra della bandiera. No, perché non mi spunti? Eh, non è un grande aiuto. Beh, mi hanno ucciso. Abbiamo perso l'obiettivo Eko. Ma è incredibile. Quello dei nostri ha rushat con la baionetta e l'ha clamorosamente missat. Come si rusha? No, io non c'erò la baionetta. Eh, se c'è la baionetta sia C e F, corri in avanti. Ah beh, la mella è bella. Se fai uno scatto in avanti dopo sei debolissimo che non puoi più correre. Però fai uno scatto in avanti e mi hanno ucciso da dietro. Porre... C'è la musica da perdita grave. Eh, infatti. Vabbè, dai, un po' di punti ci stanno comunque. Mi hanno fatto abbastanza schifo. C'è mille di volti? Pg? Sepporti lady, un po' di calls, così sia credo e Stephenia daный. C'è il mondo dell' moda che face rolere. Fuori fawe, dino? … Pugela中. Qui. Pi. 1 leader.